Noi stiamo sostenendo tutti i nostri candidati sindaco. Il 5 giugno si voterà in una tornata amministrativa in cui ci sono grandi comuni al voto in tutta Italia, piccoli e medi comuni. Più il Movimento 5 Stelle vincerà nei comuni, meno saranno i comuni governati dai partiti che li hanno utilizzati come Bancomat in tutti questi anni. Meno saranno i comuni che avranno Equitalia come riscossore delle tasse, meno saranno i comuni che sprecheranno risorse. E noi su questo andiamo avanti come un treno perché pensiamo che più comuni si riescano a governare, più toglieremo sprechi e privilegi dai bilanci comunali. A un mese circa dalle elezioni questa vicenda di Livorno, il vostro sindaco indagato per l'azienda dei rifiuti, pesa? Io penso che questa sia l'occasione per ribadire che quello che noi chiediamo ai sindaci del PD lo chiediamo ai nostri sindaci. Anzi, sono i nostri sindaci che dicono che siamo pronti a dimetterci. Nogarin ieri ha detto sono pronto a dimettermi, adesso leggiamo le carte nei prossimi giorni, ma è chiaro che se dalle indagini preliminari escono fuori delle responsabilità, lui si dovrà dimettere. Non c'è nessun garantismo, non aspettiamo le sentenze e tantomeno facciamo come il PD che ha il sindaco di Lodi a San Vittore in carcere che non si dimette. C'è Lodi ancora governata dal PD col sindaco in carcere. Quindi le accusi di doppio pesismo, garantismo... Spingo al mittente, anzi io ieri sono stato a Lodi, qualcuno mi ha invitato ad andare a Livorno, non ce n'è bisogno perché è prima di tutto il sindaco che ha detto se ci sono delle condotte che violano i principi del movimento sono pronto a dimettermi. Ho visto anche un'altra polemica che dice che noi dovremmo rispettare le leggi e non i principi del movimento per valutare le dimissioni. Ma se noi volessimo sottostare alla legge italiana, al Capone potrebbe fare il sindaco. Il Movimento 5 Stelle invece ha dei principi molto più restringenti per i propri sindaci e spero che li applichino anche gli altri sindaci.